MISSIONE FALLETA, DIFENSORI NEUTRALIZZATI Ok ragazzi, eccoci tornati in partita. Siamo su clubhouse. Barricchiamo il tutto, barricchiamo il tutto. Tipo da non so quanto tempo che effettivamente rimbo, infatti sono un po'... C'ho un po' d'ansia perché, mira... Mmm... A casa, bello! Ho sparato male, regà... Resta solo un operatore alleato. Ultimo nemico rimasto. Let's go! Diciamo che la kill prima di questa è stata fatta un po'... A caso. Però, sti cazzi... Parasite in azione. Parasite posizionato. Ma dai regà, ma regà, ma sta là in finestra. Barriera posizionata. Siamo con... Dio bon, tu ti muti su sto gioco de merda. Tutti i muti stanno. Ti mutio. Gente, non parla. Non parla. ... ... ... ci muori che brutta fine che fai doc che brutta fine che fai doc che brutta fine che fai doc sapevo io ho detto che fai una brutta fine doc sapevo che fai una brutta fine Dio buono ragazzi comunque se ogni volta devi aspettare 24 ore per fare un round su questo gioco devono velocizzare un po' un pochettino cioè ti viene da dormire quando devi partire 9 round o 9 fai 3 partite attacchiai 3 domeriggio 3 partite hai fatto l'una e mezza di notte devi andare a dormire fare un po' eccessivo vediamo se funziona ha giocato quella un po' clandestina la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica proviamo a fare il giretto quello io ma comunque quanto rumore fa cap can quando cammino che sei matto c'hai i cosi si pieti mi hanno chiuso mi hanno chiuso ok vi vaffanculo era uno solo che mi sparava da un boom non avevo visto quel boom restano 15 secondi la squadra d'attacco ha attivato un disinnescatore ma che ha fatto questo ma che ha fatto ma che era incredibile incredibile veramente incredibile dai si sarà sempre nel solito angolo se mettono tutti mica tanto ah si è stato l'altro missione fallita difensori neutralizzati let's go guys oh stavamo già a giocare un po' arco 2 no no hai sparato a tutti gli alibi possibili immaginabili hai sparato facciamogli una groviera belli oh sparato all'alibi un po' E' un po' di tempo. io ho sparato a montagna ma a montagna mi stava davanti come è possibile che mi ha preso come stavo così stavo come è possibile uno scudo gigantesco di Obon fate schifo ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto questo gioco mi fa male alla sanità mentale comunque fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti lasciate un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao